Il primo e il quattro e il mio amico che è il tuo volante colante. Il primo e il tuo volante colante. Il primo e il tuo volante colante. Il primo e il tuo volante. Il primo e il tuo volante. Il mio obiettivo principale è quello di procedere con la carriera nella magistratura e diventare giudice. Per cui adesso sto frequentando il primo anno all'università. Noi ti auguriamo un bocca al lupo e buona fortuna. Grazie.